Musica Tipo terreni calcarei molto argillosi o terreni molto sciolti, si predilice una bassissima portata. Noi considerate che lavoriamo anche con lo 0,6 litri ora, con il litro ora, perché? Proprio perché l'acqua deve scendere molto lentamente per imbibire bene magari le zorbe, non creare dei canali preferenziali nel caso di terreni calcarei e quindi in pratica far sì che quell'acqua venga lentamente captata dalla pianta. Se io vado con altre portate in quei terreni creo dei canali preferenziali e l'acqua tendo a perderla. Musica 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 vi devo immortalare tutti, siete fantastici un caffettino siamo riusciti a farlo, ciao Domenico, grazie, perfetto, il Dottor Papa c'è da qualche parte? C'è il Dottor Papa? Ciao Claudio e grazie, perfetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.